Buonasera, io ringrazio molto chi mi ha invitato e il professor Baldi. Devo dire che sono intimidito non solo dall'autorevolezza dell'ambiente, ma anche dell'uditorio. Mi sento in qualche misura estraneo. Io insegno diritto e mi sono occupato di banche, quindi oggi le banche hanno un livello di popolarità molto basso. Però io vorrei rivendicare un qualche ruolo utile nella manifestazione che oggi ha riunito qui tante persone. Devo dire che io non... anzitutto una precisazione dal punto di vista personale. Io non sono più presidente di Fidero, ma ho lasciato la presidenza qualche tempo fa per assumere un altro incarico. Però la storia che è alla base della manifestazione di oggi nasce quando io avevo quel titolo all'interno della banca. Devo dire che io conoscevo poco dell'Accademia di San Luca, anzi quasi nulla. È stata Fabiola Iatta che poi mi ha spiegato che cosa fosse questa istituzione venerabile e antica. Ho saputo oggi che ti sale al 1500, quindi ci sono poche cose ancora viventi nell'ambito del nostro ordinamento che possono vantare un'anzianità così grande. E' un ricettacolo di opere straordinarie. E quindi poi parlando quando si manifestò una possibilità di restauro di un'altra opera, del Mastelletta, Fabiola mi chiese se fosse stato possibile un contributo da parte della banca. Fu possibile, il contributo venne dato, l'opera fu restaurata e fu una cosa che inorgoglì tutti, anche la banca che era stata tramite assolutamente inerte di questa attività. L'opera del Mastelletta restaurato venne inclusa nella coppia pubblica del bilancio, che è un fascicolo piuttosto complesso, che contiene cose diverse, ma c'era anche questa, la foto dell'opera. Poi l'opportunità si ripropose per questa, il lavoro che oggi siamo chiamati, io l'ho visto di sfuggita, ma ho letto anche il diario del restauro che Fabiola mi ha dato e devo dire che mi ha entusiasmato un po' perché sono intrigato da questi processi tecnici personalmente, ma anche perché attraverso, come diceva il professor Baldi, la storia delle opere, si legge anche la storia della società che le ha prodotte, è un fatto effettivamente straordinario e questo credo sia una delle ragioni per le quali le opere d'arte vanno conservate, non solo perché sono cose belle da vedere, ma perché sono anche il veicolo della storia della società che le ha prodotte. Fideoram ha fatto tante cose nel settore genericamente della utilità pubblica, io credo che le istituzioni come Fideoram, ma tante altre che sono in grado di farlo, abbiano veramente il dovere sociale di sostenere queste cose e la conservazione delle opere d'arte, io lo dico in modo davvero sommesso, perché non ho titolo alcuno per parlare di queste cose, meritano di essere conservate. Oggi viviamo in un momento di forte secolarizzazione della conoscenza e dei costumi, i nostri ragazzi purtroppo sanno poco di arte, sono attratti prevalentemente da cose di più immediata utilità e piacevolezza, la scuola non fa credo abbastanza per stimolare questo interesse, ma noi abbiamo come società l'obbligo di conservare queste cose che si sono accumulate nel corso del tempo, sperando che poi arriverà un momento in cui, quando le lasceremo alle generazioni che verranno, questo interesse si risveglierà. Sono, tra l'altro, ormai un dato, come dire, da tutti condiviso, che la ricchezza artistica può anche essere il veicolo di una ricchezza attuale e concreta nella loro utilizzazione, tra virgolette, per un pubblico più vasto. Ecco, io mi auguro che questa possibilità di interazione tra sistema finanziario, ma direi sistema imprenditoriale, le grandi imprese in senso ampio, si mantenga. Le banche hanno fatto moltissimo nella loro storia per il patrimonio artistico, sia conservando le opere che promuovendo le ricerche per il loro studio, la loro valorizzazione. È un connubio che oggi trova qualche difficoltà in più nel mantenersi per effetto della situazione generale, insomma, che tutti conosciamo, ma è un legame che comunque va conservato. Io mi auguro che questo possa proseguire e con, così, ancora in modo assai sommesso, un augurio che le grandi belle cose che l'Accademia custodisce possano essere di più agevole accesso per chi volesse appunto. Io sono salito al piano di sopra, sono rimasto stupefatto, perché non avevo idea che ci fossero cose così belle. Grazie e buona serata. Mi scuso per non aver ringraziato Luigi Ficacci, che è qui sovrintendente storico-artistico dell'Emilia e che da par suo illustrerà le tue opere di questione, direi di cui è illustrato e studioso. E vorrei anche ringraziare Angela Cipriani, che non vedo, ma credo che ci sia, per aver fatto la direzione dei lavori di questo restauro. cos'è, infatti, la ringrazio comunque per il fatto che la direzione dei lavori è un più importante, anche se non visibilissimo. Grazie. La parola a Fabio Laiatta, che ci parlerà della fresco strappato di Guercino, mentre a Laure Cibrario ci parlerà poi della tela di Guidoreni. Grazie.